Come è andata per questa festa di primavera da Cassino a Nola? Quali giudizi positivi, negativi? Il primo giudizio positivo, che poi è anche quello che già ho espresso sui social network, è la sinergia che si è creata tra questa amministrazione comunale e l'imprenditore locale della Tecnocamper che ha organizzato molto bene questo evento e il numero dei camper intervenuti lo dimostra. La soddisfazione anche di quelli che ho sentito, anche i miei stessi soci del club che hanno pienamente apprezzato tutto quanto è stato fatto a livello organizzativo e anche per quanto riguarda la conduzione dell'evento.